Perché si fa la guerra? Per i motivi più vari ci sono state e ci sono guerre di conquista, guerre dinastiche, guerre etniche, guerre economiche. In Occidente oggi sembra ci sia bisogno di un qualche principio o di una presunta valida motivazione per giustificare un conflitto. Si fanno guerre per esportare la democrazia, come quella voluta da Bush Junior in Iraq contro il regime di Saddam Hussein. Si fanno guerre umanitarie, per proteggere una parte della popolazione che rischia l'annientamento. Si fanno guerre tecnologiche, grazie all'utilizzo di armi intelligenti che dovrebbero minimizzare le perdite umane su entrambi i fronti. Ma esistono veramente guerre giuste. Oppure ogni guerra, nessuna esclusa, è da condannare.